Erano intenti a smontare tre auto di grossa cilindrata e a caricare le parti cannibalizzate su un mezzo pesante all'interno di un casolare abbandonato a Barletta, ma sono stati sorpresi dagli agenti della squadra volanti del commissariato. I poliziotti erano in servizio di perlostrazione nella periferia nord della città in direzione Margherita di Savoia. Quando sentiti i rumori sospetti provenire da una struttura di campagna, si sono avvicinati scoprendo i banditi. Questi alla loro vista sono scappati nelle campagne circostanti facendo perdere le proprie tracce. Troppo tardi per le auto di grossa cilindrata due Audi Q3 e una Maserati Levante, risultate rubate nei giorni scorsi anche da città fuori dalla Bat. Sul mezzo pesante sono stati ritrovati pneumatici, blocchi motori, sportelli, cruscotti, paraurti e altri pezzi utili al mercato illecito. Tra il materiale sottoposto al sequestro e posto a disposizione della Procura della Repubblica di Trani, sono stati rinvenuti anche attrezzi utili allo smontaggio dei pezzi e un jammer.